Alfonso Signorini racconta il suo grande fratello VIP nel salotto di Fazio a che tempo che fa. Durante la sua intervista si è lasciato andare anche a qualche battuta sullo shrey del programma di Fazio che ha perso quasi sempre la sfida con il reality grazie a Dio che è finito, per voi e per noi. E Fazio non ha certo negato il flop avete fatto ascolti senza precedenti, proprio contro di noi. A questo punto Signorini racconta questa avventura nel programma la grande idea è stata quella di aver reso 24 ore su 24 la diretta sulle reti, in modo che la gente entrasse nella quotidianità dei protagonisti e ci si affezionasse. E sul rapporto privacy e telecamere, il direttore di chi è opinionista del grande fratello VIP ha le idee chiare e fotografa in modo netto anche la società di oggi in cui i ragazzi vivono sui social e di fatto rinunciano in modo volontario al loro lato privato non c'è più il pudore. Noi 50 anni siamo stati educati e cresciuti con il senso del pudore e la difesa del nostro privato, poi parla uno che il privato lo massacra per lavoro. Oggi i giovani vivono sui social. Non c'è più niente di privato, è un fenomeno inquietante. Non sappiamo dove andremo a finire, non lo sa nessuno. Infine scherza sul bacio di Filippa la gerbaca a Fabio Fazio e diventata virale questa cosa. E colpa mia se Filippa Tia ha baciato ieri sera.